Inutile girarci intorno, i numeri parlano piuttosto chiaro. Mediaset sta perdendo la sfida del prime time del venerdì con la Rai. Tale e quale show, varietà condotto da Carlo Conti, sta letteralmente surclassando viola come il mare, fiction di punta del biscione con protagonisti Kanyaman e Francesca Chillemi. Dopo il boom di ascolti della puntata d'esordio dello scorso 30 settembre, la serie TV in su Canale 5 ha fatto registrare un graduale, ma significativo, calo di telespettatori, assestandosi su una media di circa 2,5 milioni ad episodio. Discorso diverso per lo storico programma condotto da Carlo Conti in onda surai 1, che invece ha visto crescere esponenzialmente, di settimana in settimana, il numero di spettatori. I tantissimi fan della coppia Yaman Chillemi hanno espresso a più riprese il loro disappunto sui social, dicendosi contrari alla scelta di Mediaset di collocare viola come il mare nello stesso giorno e nella stessa fascia, oraria di un programma, tale e quale show, che ormai da circa un decennio rappresenta un appuntamento imperdibile per il pubblico televisivo. Della fiction light crime prodotta da Lux Viden e ha parlato una delle sue protagoniste. Simona Cavallari, che interpreta il ruolo di Claudia Foresi, è stata ospita di Silvia Tofanina verissimo. L'attrice ha ammesso che non era assolutamente a conoscenza del cosiddetto «fenomeno Kanyaman», no, non lo conoscevo. Sapevo che c'era Francesca Chillemi, conoscevo il regista, avevo letto il copione e mi piaceva. Quando sono andata a fare la prima prova costume e ho pubblicato sui social la foto fuori dal camerino di Viola, come il mare, il mio Instagram è scoppiato. Mi scrivevano persino dal Sud America. Ho una lista di persone che mi chiedono foto, video, ha raccontato l'attrice. Poi, parlando di Kanyaman, è davvero un fenomeno. I primi giorni a Palermo, era anche complicato. Girare con lui.